Gentili telespettatori, buona giornata. Alessandro Gasman dice addio al PD. Dice, è riempito di individui non richiesti, non vi voto più. Beh, l'ultimo è Giarrusso, che oggi è diventato Giarrosso, chiamatemi Giarrosso, diceva una comica video vignetta di Osho. Da Giarrusso a Giarrosso. Ecco, il caso di Giarrusso è il classico caso di cambio di casacca per cercare uno stipendio e continuare l'attività politica. Giarrusso, che era del Movimento 5 Stelle, nasce contro il PD, lui ne ha detti di tutti i colori contro il PD, e adesso a un anno dalla fine del suo mandato come europarlamentare, quindi a un anno dalla fine dei 20.000 euro al mese, cerca qualcosa per aggrapparsi, perché è giovane, che fa adesso? Dove va? Che lavoro va a fare? Va a lavorare al supermercato, a fare bip, bip, bip? E allora l'unica possibilità è quella di entrare nel PD. Solo che nel PD è montato lo sdegno, diceva, ma stiamo scherzando? Gente che cambia la casacca, prima ci odiavano, adesso cercano di venire qui per prendere uno stipendio, ma che roba è? E Bonaccini dice, sì, beh, in effetti, allora prima deve chiedere scusa. Il PD è aperto a tutti, ma prima deve chiedere scusa. E Alessandro Gassman dice, ma cos'è sta roba qua? Poi si è sentita la voce anche di Gigino di Maio Grande, se non riuscirà a avere il lavoro quello lì per fare il, come si chiama lì, l'ispettore del gas per l'Europa, del gas, ecco. Se gli va male quello, probabilmente cercherà di entrare nel PD e di farsi eleggere magari come eurodeputato del PD per i prossimi 4-5 anni e poi da lì passare al Parlamento italiano. Così magari possono andare insieme, no? Di Maio e Gianrusso possono fare gli europarlamentari del PD, no? Lasciati a casa, disoccupati da quella parte, nati per combattere il PD che era la casta, improvvisamente vanno e diventano politici del PD. E così, Alessandro Gassman dice, non vi voterò mai più, adiu. 57 anni, si sfoga così sul suo profilo Twitter, dopo la decisione dell'ex 5 Stelle ed eurodeputato Dino Gianrusso di entrare nel PD. L'attore e regista romano non nomina mai l'ex Iena televisiva, ma le sue parole sono apparse a molti piuttosto eloquenti. Un portito che continua ad essere riempito di individui che non sono richiesti e che non hanno a che fare con l'idea iniziale. Scusa, Gassman, ma quale sarebbe l'idea iniziale? Cos'era? Quella di Letta, dello Iusoli? Quella è l'idea iniziale? Oppure la patrimoniale per dare i soldi ai diciottenni sperando che votino PD? E' quella l'idea iniziale? Ah, le legalizzazioni, il DDL Zanne, è quella l'idea iniziale? Perché se togliamo queste bagianate qua, non saprei esattamente quale potrebbe essere questa idea iniziale. Forse quella di 40 anni fa? Boh. Ma lui dice, un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto mai più mai scritto. Grande. Sono profondamente tentato di seguirti, scrive un utente, il primo di centinaia che hanno commentato il post. Andassero definitivamente a quel paese, per essere chiari e per dire quello che uno pensa. La risposta definitiva dell'attore, che è stato poi invitato da alcuni utenti a seguire il Movimento 5 Stelle di Conte. Ma dai. Dice, non ho mai votato il PD, scrive Anna Maria, perché non sono di centro ma solo di sinistra, non hanno mai fatto una politica buona per me, ma mi permetto di dire che sono davvero imbarazzanti, penso dovrebbero chiudere qui e chi ancora si sente di sinistra dovrebbe fare uno sforzo, cercare un'unione in quel senso. E Gasman commenta, esatto. Ecco, il punto è proprio questo, che il PD è qualcosa di imbarazzante, come dice la commenta, imbarazzante. Abbiamo visto in questi giorni che dicono ci sono le primarie del PD, i militanti, gli stessi politici dicono ma bene, vi presentate in quattro, però dovete presentarvi con un programma, non è che vi votiamo per la bella faccia, o perché sapete parlare bene, o perché parlate uno sopra l'altro, o perché tu la spunti su quell'altro. Dovete tirar fuori dei programmi, noi dobbiamo votarvi su dei programmi, ma la parola programmi lascia quei quattro lì, un po' così, con quella faccia un po' così, di quelli che hanno visto. E così, realmente, hanno tirato fuori delle proposte. Voi non ci crederete, erano le stesse proposte di Enrico Letta. Lo Iussoli, le legalizzazioni, il DDL ZAN, la patrimoniale per dare i soldi ai diciottenni, sperando che i diciottenni votino PD. Quindi, queste sono le priorità, le priorità di questi quattro candidati, che da questo capite, che questi personaggi non hanno neanche la capacità di pensare a una cosa per gli stipendi, per la situazione economica, cioè non hanno gli strumenti di studio, di quello che volete, non hanno gli strumenti per poter tirar fuori uno straccio di proposta economica, sociale. E allora sono andati a riprendersi l'agenda Letta. Letta voleva prendere l'agenda Monti e oggi i successori vogliono prendere l'agenda Letta, che l'agenda Letta non esisteva, era solo l'agenda Monti, che Letta aveva praticamente proposto quelle quattro cose che loro hanno ripescato. Impressionante, vero? E assolutamente impressionante. Come fa un partito con un suo passato così importante essersi ridotto a questo livello, no? dove dei nuovi candidati non hanno la fantasia, la capacità di avere una proposta. So, mettersi lì con un foglio e dire allora uno, allora ci sono qua mezz'ora, prima di andare a mangiare devo tirar fuori, non so, quattro proposte. Una sull'economia, una su... Saranno lì così, no? Col foglio in bianco. Ma che ne so? Ma tiriamo fuori... Ma lì il DL Zan, i diciottenni patrimoniali, com'è che erano quelle robe di Letta che diceva? Ma vi rendete conto? È una roba allarmante. Bonaccini promette di riuscire a cambiare rotta al PD quando verrà eletto, anche perché gli altri sembrano più che altro delle comparse. Grazie a tutti e arrivederci a presto.